Salda! Simba! Ragazzi, ragazzi, guarda, oggi c'è un figo di Simba. Ciao, 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 ciao. Aspetta, ragazzi, quando guardate, fate guarda, Simba, Simbina, Simba, Simbina, che c'è? Sìare! Sìo? La keyra e chate, la keyra e chate, la keyra e chate. Raportate! Rizia 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 Ragazzi Se questo video vi sia piaciuto lasciato like Commentate con hashtag Simba Ciao Asperate Scordo